L'illusione scientifica più grande di tutte è che la scienza sa già tutte le risposte. Rupert Sheldrake Fin dagli ultimi dell'Ottocento la scienza si è spostata dalla scoperta al dogma. Dogma è un credo. Le scoperte scientifiche si basano su ragioni ed osservazioni ripetibili. Quando la scienza è dogmatica il suo obiettivo è difendere una teoria. Quando una teoria consolidata giudica la validità di nuove osservazioni, le scoperte terminano. Nel 1895 la scienza tradizionale pensava che volare con macchine più pesanti dell'aria fosse impossibile. Fortunatamente due meccanici, Orwell e Wilbur Wright, non credevano al dogma. Non andarono dalla scienza tradizionale istituita per i fondi ed ottennero il successo per essere stati i primi a fare un volo possibile con ali fisse. Nei recenti anni abbiamo visto che le correnti principali sostengono teorie con costruzioni mentali prive di ogni prova o dati. Decine di migliaia sono consapevoli di questo pratico fallimento intellettuale. Miliardi soffrono del ristagno che si è creato. È tempo per un campo di ricerca scientifica senza impedimenti. Oggi annunciamo la formazione di un campo di un centro di ingegneri, un gruppo internazionale dedicato alla verità, alla scoperta scientifica libera da programmi dogmatici. FE Core è un'organizzazione no profit di individui di talento dediti a scoprire la verità. Vogliamo diffondere la conoscenza per il beneficio di tutte le persone per riunire insieme esperti, dedizioni e fondi per condurre risolute osservazioni scientifiche. FE Core è ricerca basata su osservazioni effettive e non supposizioni. I risultati proveranno i fatti. Il risultato di questi fatti darà un sacco di benefici a tutti sulla Terra. È tempo di sfidare lo stato d'essere e rimuovere il velo della pseudoscienza. Grazie. Grazie.